C'è davvero l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli argomenti in questo periodo, a cominciare dalla crisi economica, dal problema di quello che accade al sud, ossia mancano i viveri nei supermercati o scarseggiano, ci sono disagi in Puglia, in Calabria e in Sicilia per le rivolte dei Forconi, che quindi si allargano un po' verso il nord Italia, ci sarebbe da discutere anche sulla presa di posizione che Beppe Grillo ha assunto nei confronti dei tassisti, dicendo io sto con i tassisti che francamente, bisogna capire, questo titolo andava arricchito, quei tassisti di Milano e di Roma, perché sono alla fine gli unici assieme a quelli di Firenze e forse di Genova e di Napoli a protestare contro il decreto liberalizzazioni, certamente i tassisti di Pavia, Bergamo e di piccole città non hanno scioperato in quanto dalle liberalizzazioni impaventate, ossia di liberalizzare il territorio che non vuol dire aumentare le licenze, trarrebbero solo dei benefici, perché potrebbero sperare di guadagnare qualcosa in più facendo concorrenza ai tassisti delle grandi città che hanno acquistato licenze a prezzi folli senza dichiarare gli importi, quindi al di là di questo argomento oggi vorrei trattare la vicenda che è successa a Napoli con Raffael Rossi, che ricorderete il ragazzo che è divenuto famoso in quanto aveva denunciato i suoi aguzzini che quando si occupava di rifiuti a Torino, essendo lui un valido progettista di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, a quanto pare gli avevano chiesto o promesso delle tangenti, Raffael Rossi si era piegato a questo sistema e per questo motivo fu licenziato dall'Amiat di Torino e a quel punto è stato chiamato, come saprete, da Luigi De Magistris che quando è stato eletto sindaco di Napoli, Napoli aveva il problema, lo ha tuttora, vive il problema dei rifiuti, il problema in parte risolto e quindi ha chiamato questo ragazzo per occuparsi appunto dello smaltimento e della raccolta. Ricordo che i rifiuti erano stati un cavallo di battaglia da parte di De Magistris e dei suoi candidati, ivi compreso l'attuale vice sindaco che è Tommaso Sodano, già senatore di rifondazione comunista che ha fatto parte della commissione, credo fosse stato anche detto la Presidente, di una commissione che si occupava di rifiuti, Sodano che oggi appunto è vice sindaco e che in campagna elettorale diceva ecco il mio piano differenziata, mi gioco tutto, rilasciava interviste promettendo fuoco e fiamme, devo dire in parte il problema dei rifiuti è stato risolto con un metodo anche un po' discutibile, si è parlato di aprire nuove, o comunque di ampliare nuove discariche, si è parlato di portare questi rifiuti all'estero, insomma certamente non è un problema facile da gestire, ma Raffaele Rossi comunque, voglio dire, è un ragazzo di cui non si può dire nulla, valido, sa fare il suo lavoro e quindi si è unito alla squadra dei magistri, se non che a fine anno, come saprete, è stato dimesso, è stato fatto dimettere e tant'è che lui stesso in maniera molto politica spiegava che questo strappo col sindaco non se lo spiegava, non si spiegava questa revoca, magari sì, conferenza stampa, dove implodono dubbi e domande sul caso del manager torinese, non più al vertice di Asia, tanto di ringraziamenti da parte del sindaco che pubblicamente aveva detto che è ringraziato questo ragazzo, gli ha riconosciuto una serie di meriti, lo lascerò ancora presidente di non so che cosa, una entità di cui non ricordo il nome fino al 2020, altri articoli che col passare dei giorni, col nuovo anno si chiedevano come mai De Magistris aveva effettivamente lasciato a casa, Raffael Rossi che ora andrà a occuparsi di rifiuti a Foggia, De Magistris non chiarisce il caso Rossi, questo è uno dei tanti articoli che abbiamo trovato dopo qualche giorno, questo è tratto dal Fatto Quotidiano del 3 gennaio e passano i giorni, non si sa, si discute, si presume, cosa sarà mai successo, alla fine troviamo forse il motivo, la ragione che ha spinto a questa decisione, una notizia che ha avuto un eco prettamente locale in quanto è stata pubblicata solo a Napoli, ebbene devi assumere questi 22, ecco le carte dello scontro all'Asia, cioè la società che gestisce i rifiuti a Napoli tra Sodano e Rossi, 30 pagine di delibere e comunicazioni interne riassumono questo braccio di ferro pressioni sempre più esplicite, dunque il pressing nelle carte acquisite dalla procura di queste 30 pagine dice che nel giro di 4 mesi si è passati all'esplicita richiesta appunto di questa assunzione urgente dei 22 ex dipendenti del bacino Napoli 5, il braccio di ferro tra il comune e Rossi, che non vuole assumere questi 22, comincia ad agosto, a novembre la rottura, Raffaele Rossi infatti chiede consiglio all'avvocato di Asia, Giuseppe Ferraro, che risponde, Asia può assumere soltanto attraverso procedure concorsuali, ora se questa è la ragione della rottura, ossia Raffaele Rossi a Torino non ha accettato le tangenti, anzi ha denunciato in procura queste presunte estorsioni anche a suo favore, a Napoli non vuole assumere 22 persone senza concorso pubblico, vuoi perché non lo meritano, vuoi perché lo meriterebbero mai bene rispettare le procedure, vuoi perché Sodano impone invece questa assunzione e allora qui dobbiamo chiederci la qualità di questa politica che dovrebbe rappresentare il nuovo anche in una realtà difficile come Napoli, sappiamo che Napoli è una realtà non facile, camorra, malavita, mentalità di un certo tipo, diffusa, però una Napoli anche reazionaria certamente che ha portato De Magistris, Sodano, questa nuova giunta, questo nuovo plotone di politici integerrimi rispetto a quello che circola certamente, però io credo che sia lecito chiedersi che se questa è la vera ragione che ha portato alla rottura del rapporto tra Raffaele Rossi e il comune di Napoli senza che De Magistris e tantomeno Sodano abbiano detto che la ragione vera era perché dovevano assumere a 22 persone senza concorso evidentemente 22 raccomandati, allora qui dobbiamo porci delle domande ovviamente sulla condotta etica e sul comportamento sia del sindaco che del suo vice, ricordiamo che il vice sindaco Sodano è stato un grande accusatore di Bassolino, l'ex governatore della campagna, del suo metodo clientelare, è stato anche testimone del processo sui rifiuti, additando insomma il metodo di Bassolino, diceva Bassolino sapeva che quegli inceneritori funzionavano male, quindi una persona tutto sommato a posto, uno che punta il dito e che dunque pretende trasparenza, condotta e responsabilità politica da parte di chi agisce, in questo caso Bassolino, ecco io chiedo a Sodano, è vero che lei ha rotto il rapporto con Rossi perché ha promesso 22 posti di lavoro senza concorso? Cosa c'è dietro se è vera questa ragione? Perché De Magistris anche a sua volta non l'ha chiarito e deve essere un giornale a scoprire eventualmente la ragione di questa rottura di rapporto? E lo stesso Rossi non l'ha chiarita, a modo suo è stato molto più politico, ha preferito evidentemente tagliar corto e ringraziare il tutto, non mi spiego, diceva questa revoca però magari poteva anche spiegarcela, non lo so, è una domanda che dobbiamo porci perché non vediamo altre ragioni e a questo punto se questa è la ragione dobbiamo porci delle domande sulla qualità della nuova politica di Napoli, benché Napoli sia una città difficile o meno, ecco io non so se Saudano ci risponderà, risponderà a me o alla rete, non lo so, non ho ancora verificato sui blog sul comune di Napoli, non so se c'è già una spiegazione, però qualunque spiegazione arriverà se questa è la ragione, insomma, io ho qualche dubbio sulla condotta politica, sulla coerenza anche purtroppo, ahimè, di queste persone elette che spero per loro che non abbiano promesso nulla in campagna elettorale o quantomeno spieghino il perché devono per forza assumere quei 22 e per quei 22 hanno cacciato Raffaele Rossi, una domanda alla quale spero De Magistris e Sodano risponderanno presto.